Buongiorno e buona domenica 10 maggio. Accolgo con entusiasmo l'invito che ha fatto il Papa alla preghiera, all'insegna del coraggio e della franchezza, di negoziazione e di lotta, una preghiera autentica che non è bisbiglio, che è apertura dell'animo per chiedere il diritto del popolo, la giustizia. Questa è la vera negoziazione con Dio che passa attraverso l'incontro con l'altro, con la persona. Oggi quindi, con animo sincero e con grande amore, se c'è un dissidio poniamolo in termini di preghiera e questa preghiera abbia la capacità della mediazione nel coraggio, nella sincerità e nella franchezza, perché in questo tutti i nostri dissidi possono essere superati perché apparteniamo a una trascendenza straordinaria che ci ha rinnovato nella dimensione dell'amore. Buona domenica.